Cioè, non vuoi stare con lui? Io sto con lui. Ma poi? Ma poi cosa? E poi lui va via e tu sei sola. Condividiamo del tempo e in quel tempo, semplicemente, stiamo bene. Ma dai, non sai nemmeno quando lo rivedrai, se lo rivedrai. Ci sono anime che, quando si incontrano, semplicemente si sentono a casa. Sì, ok, una sera, un pomeriggio, ma questo non è stare insieme. Ci si racconta, senza filtri, si ride parecchio. Cercando te, sognando te, che più, no, no. Cercando te, sognando te, che più, no, no. Per me è assurdo. Già. È la cosa più assurdamente sensata che io abbia mai vissuto. Cercando te, sognando 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 Grazie a tutti